Dopo un quarto d'ora che sei a teatro ti sembra di essere a Venezia. Red Canzian è entusiasta del suo Casanova Opera Pop, in scena oggi e domani a Rossetti. Ne ha scritto parole e musiche partendo da un romanzo di Matteo Strucul. Ha disegnato le scenografie partendo dalla Venezia del lockdown e il risultato gli sta dando ragione. Intanto il personaggio e la vicenda sono di quelli che, come si dice, acchiappano. Ha tutti gli ingredienti che servono per fare uno spettacolo energico, dinamico. C'è l'amore, la passione, il sesso, l'amicizia, l'intrigo politico, la brama di potere, l'arresto, la fuga dalle prigioni, i duelli, insomma c'è di tutto. Una trama così rocambolesca e variegata ha comportato una diversa scrittura per lo storico bassista dei Puh, oltre che un'assai varia tipologia di brani musicali. Io quando scrivo le canzoni parto dalla musica, perché non so mai che testo c'è andrà sopra. Qui sapevo che il testo doveva parlare di una cosa o di un'altra, quindi è stato un grande aiuto. Alla fine per Canzian c'è un dato che farebbe la felicità di ogni musicista, anche di quelli, come in questo caso, che già molto hanno dato e avuto. Ho il privilegio di sentire cantare da loro le mie musiche e ognuno di loro ci mette un po' della sua anima, del suo cuore e le rende più belle.